...fascista, ore di sana istruttiva disciplinata ricreazione della mente e del corpo nei ranghi della nazione organizzata in un sol fascio compatto di iniziative e di mete. Il dopolavoro dipendente del governatorato ha celebrato la seconda giornata di riposo fascista con una riunione all'aeroporto del Littorio presenziata da sua eccellenza Bottai. Grazie per la visione!